l'era ci siamo potrei anche migliorare questi quadrati a migliata oggi a che ti vedo scarmigliata oggi che presto scarmigliata non non posso essere così con la bar tra dieci giorni mi taglio la barba quando viene caldo di tutti gli anni mi taglio la barba io pensavo in onore del senazioni femminile stang beh vabbè allora se allora se se vincere non dire se vinciamo con l'inghilterra se vincete una partita mi taglio la barba vabbè allora un obiettivo veramente mio fatelo per me altrimenti passerà all'estate con la barba no non potrei mai anche se perdete me la taglio a prescindere però è bello dire se vincete una partita mi taglio la barba ciao ragazze buongiorno ciao buongiorno allora abbiamo lei la pennetta è oramai ospite nostra collaboratrice fissa coperi femminile ma oggi abbiamo sofia stefani dico bene dici bene ciao a tutti sei tu sei tu senza ombra di dubbio sono io allora ascolta raccontaci un po com'è questo periodo siamo sotto sei nazioni ci sono tutte delle la bolla adesso in trattempo non si fa più ritiro lei è un'esperienza nuova è molto bello sotto me sempre fare queste esperienze nuove accrescono ma che tu dici dai comunque un'opportunità un raduno così lungo tutto sommato può anche portare cose nuove no sì infatti beh finalmente ci avviciniamo una competizione che mi rende molto molto felice e sì sicuramente stare il raduno o tre settimane di filo o comunque quasi o fare tre partite di fila è un'opportunità che di solito non abbiamo quindi io se ne sono molto molto felice e penso che anche sportivamente possa aiutarci a trovare feeling timing consapevolezza nel gioco e nonostante ci conosciamo da tanto comunque giocare insieme allenarsi insieme per tutto questo tempo di di fila non può che essere un beneficio insomma sicuramente vale bolle dai aumenta l'attenzione anche al gioco il fatto che comunque magari tornando nei club non avete la stessa opportunità di allenamento quindi fondamentale sentivo fra l'altro in un'intervista non so di chi è in cui c'erano giuliana campanella ciccio e tonna che questa è stata anche una decisione della squadra avrete potuto tornare a casa due giorni ma tutto sommato avete scelto di rimanere insieme beh se posso dire uno quando ci ricapita e due no ma dobbiamo assolutamente sfruttare tutto il tempo che abbiamo quindi per tornare a casa due giorni che comunque lavorare è difficile certo fare le lavatrici anche tanto vale stare via ma adesso quanto tempo era che non giocavi eh non ho ancora giocato eh quindi ma andiamo con la presentazione dai che tu ha lui ama fare la scheda dell'atleta la scheda tecnica hai capito non è la tua situazione io adoro la scheda tecnica allora Sofia Stefan Padova 12 maggio 1992 un metro 65 per 59 kg utility back della nazionale e della tua squadra e poi io ero convinto ancora che tu fossi in Francia invece lei mi ha fatto sapere che sei rientrata non da moltissimo però nel 2018 ah allora si da moltissimo un po' vabbè però c'è un anno che non conta per cui sì esatto anche anche alla fine ho fatto una stagione completa da quando sono tornata e sì sono stata in Francia beh con Melissa che so che avete già intervistato sono stata cinque anni allo Stade René è stata un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo ovviamente sia dal punto di vista umano ma soprattutto sportivo devo dire devo alla Francia un grande salto di qualità che dopo cinque anni ho deciso di riportare a casa nel club da cui provenivo quindi il Val Sugana beh però cioè sei stata là tanto ah sì eh sì mi sono laureata ho lavorato un po' di tutto poi sono tornata a casa ho imparato il francese sì per forza o per sopravvivenza per sopravvivenza senti ma com'è la faccenda che c'è tu parti non sei mai stata non sei mai stata in Francia nel senso non con lo stesso spirito perché andarci come vacanza o qualche giorno è un discorso proiettarsi in un posto dove tu sapevi già il francese? no un pochino no ecco sei arrivata lì l'impatto com'è? tosto beh devo dire che se fossi andata non per giocare ma semplicemente per passare un anno in Francia sarebbe stato molto più difficile il fatto di entrare in una realtà già costruita devo dire che aiuta tanto uno a creare la tua rete sociale un pochino a non sentirsi troppo soli e due ti aiutano a parlare a capire insomma è tutta un'altra cosa quindi impatto duro ma fattibile devo dire infatti guarda quante ragazze da allora sono andate in Francia a giocare infatti te sei nel gruppo delle pioniere quasi sì beh dobbiamo Cecilia Zublen Melissa Bettoni e Giordana Duca le vere pioniere e Aua Coulibaly poi si è allargato un po' il gruppo in varie squadre per fortuna perché vedere una realtà diversa permette anche di arricchire la propria sicuramente certo tu poi quando sei arrivata lì c'era già Melissa? no io sono andata con Marta Ferrari e Aua Coulibaly e poi c'è stato un momento in cui eravamo sai mi so ah tante un piccolo ghetto italiano no dai una comunità esatto sì è vero dai comunità una comunità una comunità italiana Melissa era stata a Grenoble e poi Nuova Zelanda e poi si è diciamo si è aggregata è sempre un pochino più facile andare dove già si conosce qualcuno e beh sì eh tu hai comunque iniziato a Vasugana a giocare sì 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 non giovanissima ma avevi già 17 anni esatto e Vasugana perdeva tutte le partite è stato appunto per dire comunque lei fa parte di quel gruppo che ha costruito no? che ha fatto nascere la squadra sì un pochino dopo però sì quando sono quando ho iniziato mi ricordo c'erano 50, 60, 80 punti invece guarda adesso è giusto ci sta ci sta con la Rigoni anche lei Vasugana eh infatti sì certo abbiamo intervistato anche lei ma a proposito sai che facevo facevo i conti no? col femminile stiamo facendo veramente un ottimo lavoro perché iniziamo a avere un palmaresso interessante la Furlan di Gian Domenico Bettoni, Rigoni, Sgorbini, Turani, Tonna, Ciccio, Morri eh oggi tu quindi voglio dire non ci si può non possiamo dire nessuno che noi non aiutiamo il femminile o che noi non siamo super disponibili bravissima servita su un piatto esatto super disponibili no ma è vero è bello cioè io lo faccio molto volentieri perché comunque credo ieri o l'altro ieri adesso eravamo quello che si riferiva a Leila con Tito con gli altri e avevamo detto che i tempi sono maturi perché il femminile abbia un forte seguito cioè mentre prima assolutamente il lockdown io credo che abbia portato una svolta nello sport in generale femminile e quindi che debba arrivare anche nella nonza sì diciamo che ha permesso di acquisire un po' di consapevolezza mentre prima si era troppo di fretta per pensare di cambiare qualcosa ci siamo fermati tutti un attimo abbiamo detto così non ci va bene proviamo a lavorare un po' su di noi effettivamente ora va fatto un ulteriore salto di qualità o comunque va confermato quello che abbiamo fatto negli ultimi anni che non è facile adesso non per metterti in varia ansia o cosa secondo me il fatto che quest'anno viviamo il Se Nazioni Femminile traslato a livello di tempo rispetto al maschile sarà un'altra secondo me spinta forte per il movimento perché l'attenzione adesso è rivolta di più su di voi adesso siete il rugby che si andrà a giocare speriamo forse anche questa era un po' l'idea al di là di tutte le necessità ovviamente sanitarie ed economiche però il fatto di essere le uniche oltre ai vari campionati a giocare penso che gli interessati insomma al rugby internazionale un po' di curiosità ce l'abbiano e magari quando le partite erano in contemporanea adesso non devono scegliere almeno certo sì sì dai speriamo che sia un po' come l'onda che è accaduta al calcio femminile no? con l'oppressione che la maschile non era qualificata effettivamente ha avuto a livello mediatico un'attenzione molto più elevata quindi contiamo anche su questo ma giusto per essere più visibili che comunque rimane un obiettivo forte d'altronde se qualcuno ti guarda cambia tutto sparsarlo dal maschile secondo me è stata una cosa non so se è stata voluta no è causa covid comunque organizzazione è stata la cosa più intelligente perché c'è una visibilità totalmente differente tra parentesi si possono vedere le partite su Eurosport non prendo una lira da Eurosport ma ci tengo a dirlo perché se no vabbè su D-Max non lo danno ho capito dovete avere Eurosport lì potete vedere io sono abbonato quindi vedrò tutte le partite Leila io che dire sì non sono abbonata però faccio quella cosa del mese ora Eurosport chiamaci sì avremmo voluto venire ovviamente a vedervi io almeno una l'anno riesco comunque a vederla sempre giocate in casa ma ahimè giusto forse per i viaggi non avete avete il vantaggio il pubblico purtroppo ah sì sì ci teniamo sempre tanto ad avere pubblico casalingo e devo dire che effettivamente non è un caso se vinciamo delle partite molto difficili in casa mentre fuori magari no ma devo dire a me fa piacere anche sottolineare non so se l'ho già detto che quando si va a vedere la partita delle ragazze effettivamente poi hai la possibilità perché loro vengono sugli spalti a fine partita cioè non scappano a fare la doccia o vanno a salutare comunque il pubblico che stesso comunque a parte i parenti e l'occasione anche per rivedere un po' di gente che abita lontano che per l'occasione si è riunita molto bella questa comunità sono sempre bei momenti quando si gioca in casa infatti vabbè speriamo manderemo le foto e chiediamo alla tonna di attaccare le foto hai finti selfie hai capito infatti mettete delle fotografie così uno si mette di fianco scattano a me piace molto come fanno dall'estero che ogni sedile ha la maglia di un club mi piacerebbe sì mi piace come idea comunque la presenza del rugby nazionale all'interno della partita nonostante insomma non si possa entrare allo stadio in Francia in Nuova Zelanda si può andare però l'ho visto più volte negli stadi non mi ricordo quando si in Nuova Zelanda si o i francesi che hanno messo tutti i nomi dei club dietro i numeri nella maglia anche quello ovviamente simbolico però ma è la prima partita che tu giochi a porte chiuse? no abbiamo giocato a novembre o mi pare si era già a porte chiuse si era già a porte chiuse e anche l'Irlanda in Irlanda la fine del 6 nazioni 2020 infatti è stata l'ultima partita che ci aspettavamo di iniziare il campionato di giocare di fare invece cariche pronte eravamo sì devo dire veramente è stata una bella battosta tu hai giordito nel 2011 nazionale eh sì neanche poi tantissimo tempo fa dai beh sono dieci anni ormai ti poni dei limiti non ho capito ma assolutamente no e allora? io mi sento molto più giovane di quello che sono quindi è giusto ma sei giovane caspita allora io sento quando intervisto i maschi mi dicono 33 anni oramai sono finito dico guarda che c'hai ancora nove anni sei 32 c'hai 10 ancora da giocare e mi dicono no no non ne posso più è dura è dura un sacco di botte e via eh loro sì ancora di più secondo me gli impatti sono comunque diversi e beh sono più pesanti e di conseguenza a parte che l'Inghilterra ne parlavo con Cicciò cioè hanno delle dimensioni che non insomma sono ma infatti con loro è evidente la differenza fisica più che poi la tecnica secondo me viene dalla differenza fisica nel senso sei talmente tanto aggredita in difesa o comunque prendi delle botte molto più più forti detta in maniera insomma informale rispetto alle altre squadre che non riesci a sviluppare tanto poi non si sa mai il fatto di di non giocare di essere un po' arrabbiate deve essere un'occasione non deve essere un limite quindi come dici tu non poniamoci limiti non si sa mai assolutamente assolutamente ma detto sempre c'è ciò che fate due allenamenti alla settimana poi scusami due allenamenti al giorno sì beh questa è anche la realtà quotidiana comunque magari in raduno si fa molto più rugby ovviamente e per fortuna però insomma io vedo per per me per le mie compagne comunque al Val Sugana la media è di un doppio allenamento che sia chi può mattina e pomeriggio mattina e sera chi può chi non può li attacca pomeriggio sera però quello è il volume di allenamento è più o meno lo stesso anche perché che se no arrivi in raduno che nella bolla anzi che non riesci a reggere il ritmo sì vorrei spezzare un po' sofia credo che tu sia una fra le prime atlete ad aver sempre avuto un fisico abbastanza scolpito quindi la tua cultura fisica diciamo è costruita già nel passato sì beh io vengo da sport individuali quindi la cultura dell'allenamento è molto più marcata adesso anche nel rugby si sta andando in quella direzione finalmente devo dire però sì è vero che ho spinto più e più volte le mie compagne delle varie squadre ad allenarsi di più con me sì sì poi velocemente devo dire che c'è stato questo adeguamento però sin dall'inizio no? da quando sei arrivato nel rugby diciamo che la tua caratteristica fondamentale era la velocità e questo fisico pazzesco Giuliana ti chiama energy ma ti alleni tanto anche in palestra tu? sì beh siamo su 4 4-5 allenamenti insomma in palestra ma che è sì sì è bene ma più che una costruzione un postile di vita diciamo stile di vita ma più che costruzione deve essere funzionale assolutamente all'attività uno di protezione perché ti permette assolutamente di attutire gli impatti di recuperare meglio dalle botte che prendi e poi per stimolare la performance sicuramente adesso ci sono io poi faccio scienze motorie quindi non potrei non dare l'esempio la domanda che seguiva era stai riuscendo vedo un po' non dai tuoi social ma quelli del Val Sugana che tornando a casa stai anche portando questo tuo modo di essere al club quindi c'è questo progetto nella clubhouse no nella clubhouse nella palestra del Val Sugana io mi occupo di preparazione ora nonostante mi piacerebbe anche allenare in futuro quindi vediamo adesso cosa succede diciamo quasi tutte le categorie giovanili a parte l'under 16 del Val Sugana maschili e femminili e poi sì abbiamo cercato di avviare questo progetto di apertura della palestra del Val Sugana agli esterni perché sono facendo anche personal trainer insomma per ampliare un pochino il raggio d'azione però sì non potrei non allenarmi io dopo che professo l'allenamento per tutti ma anche abbiamo visto quando abbiamo incontrato Turani anche lei fisicamente è messa bene sì 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 assolutamente a livello nazionale per forza dovete avere uno standard è necessario anche questo si è costruito nel tempo alla fine in questi dieci anni c'è stato un grande cambiamento anche da parte nostra poi siamo un po' in ritardo rispetto agli altri forse sì ma ma è necessario come vediamo gli uomini che diventano giganti noi non dobbiamo per niente puntare a diventare giganti anche perché la fisiologia è diversa però bisogna assolutamente avere tutte le armi secondo me dalla nostra parte tra cui quella fisica sì ma vai 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 no no diciamo non solo non ti divertiresti se io non riesco a correre se io non riesco a impattare sul contatto sì arrivo al cinquantesimo che vuoi andare a casa non vuoi giocare basta vado a casa no io invece volevo chiederti questo ma proprio parere da professionista secondo te qual è il gap che ci separa da alcune nazioni non parlo solo del femminile parlo anche del maschile cioè perché loro sono così avanti anche fisicamente rispetto a noi noi in maniera abbastanza classica arriviamo al cinquantesimo come dicevi tu prima che diciamo siamo abbastanza finiti mentre invece questi hanno ancora birra da vendere per altre 30 40 minuti allora una volta sì ti avrei detto cioè una volta 5-6 anni fa la differenza fisica era molto più evidente secondo me adesso non è quello secondo me il gap più grande perché comunque anche a livello internazionale il modo di preparare gli atleti è abbastanza uniforme alla fine c'è chi recupera in un modo chi in un altro ovviamente ci sono delle scelte però è abbastanza uniforme secondo me uno ha l'abitudine a vincere se non vinci mai non sai vincere c'è poco bravo e poi non so adesso io ho notato in queste 6 nazioni la fatica che si fa a guadagnare la linea del vantaggio a tenere la palla in avanzamento che sia attraverso rac veloce o comunque continuità diretta una volta che fai così fatica ad avanzare un po' alla fine quando riesci a superare la linea della difesa è cioè è talmente raro è talmente un caso che se sprechi la tua unica occasione fai tantissima fatica ad averne un'altra e quindi secondo me appunto il gap non è più tanto fisico ma forse più tattico o comunque tecnico non direi tecnico non direi perché cioè per quello come tecnica sia voi che il matino tecnica e fisico secondo me non è quello appunto poi giocare sempre ad un certo livello adesso in Francia il top 14 non è lo stesso livello di vedere Zebra e Benetton purtroppo e quando sti abitui a giocare un tot di tempo di effettivo in tutte le partite invece di giocare 38 minuti effettivi nei giochi 42 o al posto di 35 42 e fa già tanta differenza sono quei minuti effettivi degli ultimi 20 minuti della partita magari e quindi ecco secondo me passa da innalzare il livello di gioco un pochino più dell'attività in generale ma tu quando giocavi in Francia c'era una forte differenza tra il campionato che giocavate voi e quello italiano è un po' velenosa però sì è evidente nel senso anche solo magari il livello tecnico delle squadre più forti non è così così grande il punto è che ogni partita che giochi nel campionato in Francia non sai se vincerai te la giochi finisce 20 a 15 18 a 15 invece quando la domenica arrivi in campo e vinci 80 a 0 per quanto tu decida che devi giocare bene fino all'ultimo come se fossi 0 a 0 è diverso anche come ti dicevo come per la maschile l'abitudine a giocare fino in fondo per vincere fino alla fine della partita cambia tutto invece di sapere già che vincerai o sapere già che perderai al quarantesimo sì poi sicuramente abbiamo bisogno di aumentare i numeri perché se vogliamo anche analizzare i fattori club quando tu in un club puoi lascia perdere tu magari a Val Sudana hai questa opportunità ma puoi fare un 15 contro 15 in allenamento capisci che il volume di gioco sale enormemente ci sono purtroppo club in cui questa opportunità scarseggia ci sono gli adattamenti tutto quello che vuoi però non fa mai come allenarsi in tanti e in tanti di un livello adeguato esatto assolutamente io in Francia mi ricordo negli anni in cui eravamo di più eravamo anche 50 60 allenamento c'erano due squadre la prima squadra giocava in elite la seconda squadra giocava nella terza categoria quarta non mi ricordo puoi fare 15 contro 15 con i cambi puoi fare mischia contro mischia una linea di tre quarti contro una linea di tre quarti cioè parte da lì ovviamente poi io non sono solo per aumentare la base per creare più numeri però dobbiamo pretendere la qualità ma certo però è difficile fare qualità se io posso allenare la mia mischia o il mio pilone contro la macchina della mischia e basta no? quindi è tutto un escalation però i passi avanti sono notevoli e quindi cavalchiamo insomma quest'onda di crescita sì sì se vuoi fare altro cioè partiamo magari un po' di ritardo ma lì non ci possiamo fare niente quindi abbiamo solo che è da rimboccarci le maniche e creare il meglio possibile no? secondo me dobbiamo riuscire a non ripartire da zero ogni due o tre anni questo cioè una volta che facciamo salire una generazione di ragazze buona non possiamo ripartire da zero ci deve essere già sotto un'altra generazione certo guarda quello è il problema più grosso secondo me senza rubare poi troppo tempo diciamo che anche io lavoro nel progetto delle under 18 progetto ahimè però è nato in un periodo sfortunato dove a quest'ora saremmo dovuti uscire magari con un'ipotetica nazionale giovanile no? e questo sicuramente porterà la gente ad affrontare un esordio nazionale in un altro livello noi ora non possiamo vedere non possiamo sapere perché però i progetti si stanno costruendo anche grazie appunto a questo numero maggiore di atlete perché il fatto che ci siano adesso la categoria 14 16 anche la 18 è una categoria nuova in Italia e che purtroppo cade in un periodo veramente brutto non si notano i frutti di questa creazione sì o comunque certo tanto lavoro viene perso senza giocare c'è poco da fare eh certo ma tu veramente immagini all'entusiasmo che avevano queste ragazze che erano coinvolte in questo progetto che hanno fatto magari le prime uscite i primi raduni eh insieme ma poi ci siamo dovuti bloccare eh arriveremo sicuramente ed è la strada oggettivamente finché le ragazze esordiscono e crescono al a livello nazionale andando in prima squadra la nazionale ovviamente per quanto è accogliente tutto quello di positivo che può trovare sicuramente via un esordio contro un'Inghilterra non è un esordio facile no eh magari preparate succedeva dieci anni fa perché il movimento era tanto giovane non possiamo più tra virgolette accettare che succeda dobbiamo avere ragazze un po' più proprio sono d'accordo sì assolutamente ma ascolta voi quante siete alle Valsugana? allora ci alleniamo non ti scorda nessuno no più o meno nel senso la domanda era se riuscite a fare un allenamento un 15 contro 15 13 ah 70 ci alleniamo in 30 32 33 ad oggi non si può fare niente quasi ma insomma le ragazze sono non posso dire niente perché sono sempre tutte venute abbiamo creato quel meccanismo per cui hai voglia di venire lo stesso anche se non puoi fare tutto anche se è dura anche se devi fare la preparazione e e quindi sì poi appunto le 14 16 18 14 non tante però tra 16 e 18 sono anche loro 25 si allenano tutte insieme e comunque un buon numero per lavorare sì 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 beh io assolutamente ma purtroppo è una realtà un po' è rara da trovare diciamo così in Italia va costruita va costruita con un impegno certo è più che altro difficile secondo me trovare società staff che sono disposti a investire non un anno o due perché non bastano ma 5 6 7 per costruire una realtà del genere sì ma come dicevi tu voi all'inizio perdavate tanto eravate anche sicuramente poche rispetto a oggi avete avuto la fortuna di trovare una società che ha investito ha creduto nel progetto e le cose si fanno sì sì assolutamente ma io non posso assolutamente dire il contrario però se ci sono i numeri uno investire il resto il problema non è quel cioè il discorso non è l'investimento l'investimento viene da sé al momento stesso in cui se ne lo so nella società X arrivano di voto 15 20 bambine che vogliono giocare e uno dice cioè come dice Erika Mori dice la quota del maschile uguale alla quota del femminile ah sì sì quello è vero il punto è che non arrivano purtroppo bisogna andarsela a cercare ma infatti bisogna creare una realtà una dinamica esatto è una rete capito c'è un sistema di pensiero una filosofia chiamala come vuoi che porta le bambine a giocare sai tradizionalmente noi siamo ancora molto legati a questo discorso cioè bambina danza classica un po' di stereotipo di genere però sì io penso che venga da più lontano che cioè dalla scuola purtroppo se se a scuola i ragazzi i bambini facessero tutto indipendentemente da maschi femmine avrebbero sarebbero più aperti nel momento in cui al pomeriggio vanno a casa e dicono oggi a scuola ho fatto ok vorrei andare a provarlo invece avendo la possibilità di fare poco sport a scuola è anche difficile avere l'intenzione e l'idea poi se tuo fratello gioca al Val Sugana e la mamma ti porta e lo viene a prendere e vedi che tu a 12 anni vedi che c'è la junior femminile che si allena le ragazze della senior che magari sono in palestra in 10 tutte insieme vedi che esiste questa realtà ma se vai magari in un'altra società o comunque nel giorno sbagliato diciamo non lo vedi e come fai a sapere che esiste e per questo che la missione di Roberto è proprio questa lui più volte mi dice ma perché non siete sempre lì a dare notizie di voi perché ogni ogni giocatrice tu pensa perché lui ha ragione se ognuna di noi pubblicasse qualcosa della sua attività oggi sono stata in palestra oggi ho giocato a rugby oggi ho provato i calci probabilmente non sarà la svolta però è un aiuto notevole sì sì certo caspita cioè pubblicizzi un marchio pubblicizzi un movimento pubblicizzi un'idea se io non sono abituato a vederti non so che esisti tu devi partire dal presupposto che già per esempio il top 10 nel maschile per grazia di Dio ci sono delle televisioni che mettono in posizione delle riprese se tu vai a vedere quanta gente guarda il top 10 cioè sono dei numeri veramente sconfortanti però è vero però se tu pensi è il massimo campionato che abbiamo in Italia se tu di contro non fai vedere neanche quello io come utente come fruttore ma anche come tifoso ma so cosa succede sì sì è vero oppure devo guardarmeli sul cellulare grandi così sì sì è vero ma sono completamente d'accordo per quanto a me venga difficile è vero cioè guarda vorrei che qualcuno lo facesse per me tra virgolette perché no diciamo però anche qui stiamo migliorando tanto anche l'immagine del regui femminile si sta un po' sdoganando effettivamente sta uscendo un pochino dei luoghi comuni non fa parte magari della cultura di tante giocatrici questa esposizione infatti anche a te diciamo sei un personaggio quasi misterioso non ti si vede non fa parte della non è il nostro la nostra zona comfort però fortunatamente c'è chi ci sta pensando anche i club pian piano si stanno attrezzando a questo e sono anni che anche oggi per esempio se si va sul sito fir ma anche gli altri anni per carità c'è l'immagine del se nazioni femminili e questo è anche è importantissimo no? si comunque World Rugby sta anche World Rugby sta promuovendo tanti progetti al femminile o comunque beh tu anche hai partecipato anche se tu apri il sito di World Rugby parlano subito di ragazze e gioca rugby e se sei una donna prova cioè è importante e comunque è una cosa avvenuta negli ultimi 4-5 anni prima quando io mi ricordo ho iniziato e per carità ho iniziato da grande come l'hai scoperto? a scuola fatalità hai visto? hai visto? allora si fa qualcosa a scuola io facevo un liceo sportivo in cui provavamo giustamente tutti gli sport la base era la stessa di un liceo scientifico normale in più facevamo due o tre ore di educazione fisica in più e come mai tu hai fatto pentatron atletica hai detto sport individuale ma come sei arrivata al contatto come mai ti ha non ti ha spaventato il contatto ma invece no no ma io no non so evidentemente aspettavo solo che qualcuno venisse da me e dicesse vieni a provare sì sì beh va bene quello è già è già comunque una cosa positiva con la scuola in tanti tanti sono andati a giocare sì sì Federico Mori per esempio anche lui ha avuto la stessa cosa l'hanno portato a scuola un giorno un giocatore della nazionale l'hanno portato da scuola l'hanno portato a un campo evidentemente era una tipo una giornata open e a lui è piaciuto è andato a giocare ma è quello che bisogna fare effettivamente bisogna farlo un pochino prima perché io già avevo cioè ero in salisi superiori penso se lo fai all'elementare alle medie che li prendi e li porti a vedere cosa si fa poi magari non piace però almeno che sappiano cosa c'è ma sai che avevano c'è stato delle iniziative che ovviamente partite dall'estero dove hanno fatto praticamente come un kinder praticamente un asilo o un campo giochi presso le società dove i bambini i fratelli più piccoli di quelli che giocano potevano avere a disposizione uno spazio chiaramente con degli educatori che li facevano giocare in maniera tale da legare le persone al club in maniera tale che anche la mamma che arriva col bambino più piccolo può godersi diciamo il suo momento chiacchierare con le amiche piuttosto che vedere l'allenamento del figlio o la partita del figlio più grande sapendo in sicurezza che gli infanti sono gestiti ma quelli poi quando crescono sono abituati ad andare concitualmente al campo e quindi tu crei un substrato di nuovi tesserati molto importante sì o comunque verranno a vedere le partite aiuteranno le squadre faranno i dirigenti esatto non è che devi fare solo il giocatore puoi fare il dirigente l'accompagnatore però sei formato capisci è una cultura sì non è detto che piazza a tutti però è una cultura assolutamente invece di stare come stai al bar in una piazza stai in clubhouse se proprio bisogna oppure magari provi ti piace non ti piace però questa cosa di poter scegliere di vedere che esiste secondo me manca un pochino ma in tutti gli sport oppure vado vado a giocare a calcio perché giocano tutti a calcio i miei compagni sì ti aiuta a entrare nella comunità ti riporto in campo però sì sì tu hai due ruoli che non ci azzeccano niente uno con l'altro non so se due o tre c'è da mediano a la qual è beh sì esiste c'è esiste io ho visto più di qualche giocatore insomma dai a cui capita comunque sì è vero a me hanno sempre detto che più cose sai fare più hai sicurezza quindi quando sei all'ala non smadonnerai mai col mediano e dici oh ma quando la fai arrivare perché capisci quanto lì dentro è complicato lavorare ma a parte questo sono convinta che la consapevolezza di quello che succede in tutti i ruoli possa portare anche a migliorare però adesso quali sono i migliori gli avanti o i tre quarti qual è il gruppo che a cui ti affezioni maggiormente eh gli avanti eh perché sono più buoni sono più sono più simpatici c'è poco da fare i tre quarti sono un po' autistici un po' solitari è vero eh assolutamente poi ovviamente quando si gioca noi facciamo delle cose molto più belle di loro poi ognuno il suo loro già sono simpatici non è che possono fare tutto esatto esatto le cose belle fighe insomma le facciamo noi loro fanno fatica però fuori dal dal campo loro sono più simpatici senti se tu potessi cambiare il tuo ruolo no e andare in mischia che ruolo scegliresti prima seconda terza centro qual è quello che dici io se avessi un altro fisico vorrei fare quello penso alla terza linea terza linea sì 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 assolutamente libera di andare dove gli pare esatto comunque con un po' di capacità sia di combattimento che di di visione del gioco tattica sì sì un po' di tutto mi piace saper fare più cose quindi assolutamente terza linea non mi spingo fino all'otto numero otto però terza linea l'otto è bello perché hai capito ti buttano su come se tu fossi un sacco di patate dai per te non si apparisse come lo facevano volare in alto ah sì senti ma andiamo un po' raccontaci qualcosa dei sei nazioni dai cosa cosa viviamo proprio come tutto come preparazione prima poco prima del match adesso oramai siamo soli quindi del sei nazioni in generale no no di questo qui del 2000 ah di questo adesso tra pochi giorni loro partono e vanno nella bolla e quindi com'è la storia cosa cosa non no cosa metterai in valigia che assolutamente non deve mancare i paradenti i paradenti i paradenti e le scarpe i paradenti hai capito mi dicevo lo spot anche il paradenti di mettere in valigia cosa posso dire non lo so non ho molti molte tradizioni o molte non sono molto come si dice scaramantica quindi non ho una cosa che se mi manca non posso giocare quindi su questo forse vi deluderò un po' non lo so metto per sicurezza sempre le stesse mutande sempre però per sicurezza non è scaramanzia cosa posso dire non vedo davvero l'ora l'emozione che mi che che viene più che è più presente non vedere l'ora l'impazienza l'entusiasmo ma tatticamente io voglio sapere come se fosse la prima volta voglio sapere tatticamente come viene preparata la partita perché questo non riesco non riesco farvelo spiegare da nessuno cioè adesso la prima partita voi giocherete con l'Inghilterra cosa succede di Gian Domenico e Ciccio vi portano un anoro e vi dicono allora questi giocano così cosa dobbiamo fare va bene allora l'Inghilterra diciamo che usa una strategia di gioco non molto imprevedibile ok quindi cosciente delle loro grandi capacità fisiche e tecniche comunque vanno sul sicuro non ci sono grandi sorprese di solito come vediamo giocare anche l'Inghilterra maschile grandi impatti qualche schiena diciamo in generale fate un'analisi di quello che potrà succedere senza comunque non cambiando mai di tanto sì guardiamo di solito l'ultima partita che ha giocato l'Inghilterra che sarà appunto questo sabato contro la Scozia e dopodiché di solito gli allenamenti a disposizione si dividono un pochino a metà tra gli allenamenti in cui si lavora la parte offensiva e gli allenamenti in cui si lavora la parte difensiva ok e di solito contro l'Inghilterra la parte difensiva ha un po' più di peso quindi ci organizziamo a volte troviamo tra virgolette degli escamotaggi un po' diversi che possono uscire un po' dal nostro schema classico non so decidiamo di aggredire più possibile i primi 20 minuti oppure decidiamo che dietro ci sta il 10 al posto dell'ala quindi rinforziamo un pochino la linea difensiva però sono piccole cose che adesso non so dirti cosa desidera Andrea finalmente qualcuno mi ha raccontato quello che volevo sentire e poi l'ultimo allenamento gli ultimi due sono il cosiddetto team run quindi si provano proprio le strutture di gioco più di tutto quindi c'è poco da scegliere poco da come mettere in moto una macchina e fare in modo che vada via dritta insomma sempre alla stessa velocità o comunque accelerare quando si vuole accelerare ed accelerare quando si vuole decelerare tutti insieme perché nessuno vada per conto suo decidiamo beh in realtà più o meno è sempre anche il nostro lo stesso lo schema di gioco e la nostra strategia però diciamo che nei giorni precedenti ci siamo date le carte per riuscire ad adattarci un pochino quindi a leggere e fare le scelte in base alla difesa l'ultimo giorno è proprio di prova mettere l'olio al motore ok quindi va bene insomma quello che si chiama l'allenamento di rifinitura esatto ma i cambi vengono a prescindere dal cambio per infortunio cioè proprio il turnover dei cambi è deciso prima cioè tu sai ipotesi tu sai già ribadisco a parte l'imprevedibile tu sai già quando entrerai se entra dall'inizio se uscirai le roba simile cioè per esempio gli avanti generalmente hanno dei cambi ma non non è così scontato allora ovviamente dipende da chi c'è in panchina se in panchina non c'è qualcuno che è del mio ruolo probabilmente ti tocca anche Zopra anche Zopra in piena non caccio giochi lo stesso no assolutamente mancherebbe no però è questa anche la forza secondo me di una squadra essere in grado di coprire più ruoli e gli avanti è un pochino più difficile nel senso se giochi in prima linea difficilmente andrai in terza linea o in seconda linea se giochi in seconda linea difficilmente andrai in prima diciamo che anche se giochi dieci difficilmente giocherai ala però il fatto di tutte noi coprire almeno due ruoli ci permette di avere un turnover più ampio anche all'interno della partita in base a come va in base alle nostre caratteristiche soprattutto però non credo che nessuna quindi no non sono predisposti dall'inizio anche non è che tu entri mai in campo sapendo che giochi solo il primo tempo no tu vai esatto beh vabbè Franco Smith nelle partite del Sele Nazioni applicava dei cambi molto schematici sempre abbastanza in quei tempi sì è vero mi domandavo se ci fosse un sistema simulare ecco poi diciamo che ogni allenatore ha un po' il suo il suo modo di fare giustamente poi se vedi di solito c'è un cambio che rimane quasi fino alla fine perché se finisci i cambi e ti trovi qualcuno che si fa male giochi in 14 e è un po' scomodo diciamo quindi diciamo quello forse dai è la cosa più più sicura poi il resto giustamente in base a come va la partita come stai giocando se c'è più bisogno di qualcuno che sia sull'impatto che vada più a ricercare lo scontro fisico se c'è più bisogno di qualcuno invece capace al piede boh dico cose un po' uno ci si adatta giustamente però il fatto di tutti coprire più ruoli è una grande ricchezza secondo me e beh certo che non tutti hanno su questo chi è che calcia dove calcio di inizio in tush no no chi è che calcia piazza sì mickey silleri però appunto anche qui ci sono più opzioni però esatto certo beh sì diciamo lei inorma il ruolo aspetta sì se lei appena ha preso una botta in testa e non se la sente non lo fa è anche questa la forza del gruppo che ci ritroviamo sicuramente che non è che per forza deve farlo lei se no non lo fa nessuno no no beh è chiaro certo qualcuno che due o tre penso che siano almeno due o tre anche di più forse calciatori poi non so se c'è da destra o da sinistra che no essendo quasi tranne Veronica Madia siamo tutte destre quindi c'è poco da scegliere ma tu calci? sì no io non piazzo posso andare in tush tranquillamente in tush ok se capita sì però diciamo che Be'a Rigoni di solito va in tush per dire ognuno ha un po' il suo ruolo in modo da non caricare tutto su non hai piedi non hai piedi no no dai no un po' un po' formati sono l'importante l'importante è quello va bene senti non abbiamo parlato però del fatto che Sofia non fa solo quindici ma gli avanti ma poi passa anche gran parte della sua vita con i tre quarti nei torni nei seven mi piace molto giocare a seven molto faticoso forse per quello mi piacerebbe farlo molto di più di così anche devo dire la verità infatti confido e spero che sia una disciplina che cresca in Italia il più possibile e che non si limiti insomma a essere i due tre quattro tornei estivi ma diventi una realtà anche nazionale sì sì anch'io in realtà spero magari anche era partito anni fa un pseudo campionato seven poi purtroppo poco partecipato diciamo la verità però erano i mesi magari poco il nostro problema grosso da italiani anche d'estate andiamo al mare infatti hanno inventato il beach per quello esatto infatti va molto di più del seven non è un caso è vero è vero poi negli ultimi tre anni il beach ha veramente spaccato beh anche quello è bello cioè è una bella disciplina è tutta un'altra cosa perché è molto più easy però è molto bella niente a che vedere col seven non lo scambierei mi piacerebbe riuscire a partecipare alle World Series che l'Italia entrasse un pochino in un circuito mondiale un po' più di alto livello magari un giorno riusciremo a sviluppare anche questo aspetto c'è tanto lavoro volendo c'è tanto da fare ma sai anche per un motivo cioè finché i giocatori o tu crei veramente un movimento seven con giocatori che giocano solo ed esclusivamente a seven o se tu vai a tingere al bacino del quindici e diventa un problema perché i tuoi allenatori ti dicono beh insomma invece di andare a giocare a seven rimani qui a club che non ti fai male piuttosto che ti alleni con la comunità se invece chiaramente hai un movimento dedicato dove tutti giocano quasi tutti giocano a seven beh allora la cosa è sicuramente va beh dai step by step io mi accontenterei anche fine campionato di fare un bel campionato seven veloce poi ci arriveremo sicuramente però forse il passo è troppo grande per creare un movimento sì assolutamente adesso è troppo grande ma già se accorci il campionato magari lo fai finire a fine aprile ai maggio e giugno per fare due mesi di seven sarebbe già un grande passo avanti dai assolutamente siamo confidenti senti ma Francesca Gallina sai se è vera a vedervi? spero lei ci tiene tanto perché mi ha detto io volevo il gas day ma non mi hanno fatto andare con la storia del lockdown anche qui anche in Vicenti voleva voleva muoversi venire però non è stato possibile perché beh magari vedremo qualcuno nella nostra bolla non lo so è giusto? sì penso di sì poi sei a Parma insomma diciamo che è abbastanza comodo da tutta Italia sì dai sì sì poi è un è comodo proprio in generale avere tutti quei campi a disposizione sì sì voi siete in albergo o siete dentro qualche struttura legata al no siamo al Ducale che è lì di fianco è presente dietro i campi c'è un albergo sì 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 è comodissimo andiamo a piedi sì 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 l'ho visto l'ho visto vicino al parcheggio esatto esatto va bene quando andavo abbiamo conosciuto Sofia e Stefan a Parma nonostante va bene ho detto abbiamo conosciuto Sofia sì sì sono contento un'altra un'altra perla dentro nel nostro Parmaresse delle Azzurre tutto compreso Gian Domenico compreso Ciccio compreso i dirigenti vari dai allora senti io ti noi ti facciamo i nostri migliori auguri di quantomeno di divertirti più possibile a Sei Nazioni e di far divertire un po' anche noi eh Leila sì noi ti guarderemo ovviamente eh sì grazie grazie del supporto è importante facciamo il tifo facciamo il tifo e poi magari ci sentiamo alla fine quando è finito Sei Nazioni per fare un bilancio cosa ne dici sì va bene ma noi alla fine faremo un torneo senti me Seven sporonzzorizzato bulldog cioè guardate lui non lo voleva dire non lo volevo dire perfetto allora Sofia devi sapere una cosa no? che da quando c'erano in valo le qualificazioni mondiali che lei la pennetta mi è storto davanti a tutti dicendo che io le offrivo il biglietto aereo per andare a Nuova Zelanda ma questo se l'ha inventato lei di sana pianta hai capito? lei è dovuto soltanto costretto dire da brillante sì sì guarda non c'è problema lei è già in Nuova Zelanda tutto questo movimento deve avere un fine cioè l'obiettivo è importante vero Sofi? bisogna avere degli obiettivi io andrò in Nuova Zelanda e farò un torneo Seven sempre grazie allo sponsor ma se lo sponsor fosse davvero così ricco ma più che volentiera però potresti creare il link dove la gente mette i soldini e aiuta questa cosa ora io te la lancio vanno le raccolte fondi vanno un sacco sì 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 vanno sono le faccio però domomia dico c'è un ragazzo che avrebbe bisogno capito? esatto per andare a vedere per andare a vedere le partite poi Nuova Zelanda ecco se ne tiro su tanti mi prendo la penna poi per raccontare al mondo quello che vedo cioè è una missione lo faccio per tutti ovvio ora Sofia andrai ad allenarti esatto stiamo facendo saltare l'allenamento vado giusto alle mezza mi cambio e vado eccoci va bene va bene ragazze vi ringrazio è stato molto bello piacevole come al solito poi abbiamo avuto le ultime novità su Sei Nazioni e quindi meglio di così non si può grazie a voi grazie ciao 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 e buona rugby a tutti certo ciao 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 grazie a tutti